Cambia la location ma non la filosofia di Vini ad Arte. Domenica e lunedì, invece che al MIC, le cantine romagnole si presenteranno a Casa Spadoni, sempre a Faenza, all'insegna della Romagna Sangiovese e non solo, con una parentesi aperta per l'anteprima dedicata alla riserva 2017. Vini ad Arte per noi è come l'inaugurazione dell'anno ufficiale, è il primo evento dell'anno, in un momento dopo la vendemmia molto importante per la valorizzazione dei vini e quindi la presentazione. Vini ad Arte a Faenza ha questa tradizione, più o meno secondo o terzo weekend di febbraio. La unità di quest'anno è che dal Museo delle Ceramiche, causa la concomitanza con la mostra di Picasso, ci siamo spostati a Casa Spadoni. Sanno presenti oltre 40 giornalisti, pregnete da Italia e da tutto il mondo e presenteremo l'anteprima della vendemmia per il Sangiovese della riserva 2017. Tanti eventi, assieme all'ASCOM abbiamo organizzato con i ristoranti la possibilità con sconti di partecipare per il pubblico a questo, ci sarà un convegno del FIPE, la collaborazione con l'Enoteca regionale per Carta Canta, compreso il ritorno del Master del Sangiovese, che organizziamo assieme all'Associazione Italiana Sommelier.